Ho eseguito la biopsia convinto di avere neuropatia delle piccole fibre. Perché allora è risultata negativa? Molti utenti ci chiedono spesso come mai la loro biopsia neurologica di cute risulti negativa, nonostante fossero convinti di avere la neuropatia delle piccole fibre. Si potrebbe pensare che il motivo sia soltanto uno, il più ovvio, non ho la NPF. In realtà ci sono altre variabili possibili. Vediamole, cercando di spiegare nella maniera più semplice possibile. 1. Il campione è stato analizzato male. È sicuramente un evento molto raro, ma come per ogni cosa può capitare. Sicuramente è più probabile che ciò avvenga se si esegua un unico prelievo, piuttosto che prelievi multipli. In alcuni ospedali, infatti, si eseguono due prelievi alla caviglia, due alla coscia e addirittura ad un polpastrello delle dita delle mani. Questo ci porta al secondo motivo per cui una biopsia può risultare negativa. 2. È stato eseguito un unico prelievo in un'unica sede. La neuropatia delle piccole fibre, come molte polineuropatie, in tanti pazienti parte dai piedi. Questo significa che i primi sintomi si percepiscono a livello di stale, i piedi appunto, ma ci sono anche casi in cui il paziente ha degenerazione prossimale, cioè verso la coscia e il tronco, e non ai piedi o alle caviglie. Se si esegue un'abiopsia dove l'unico prelievo è nella zona del malleolo, questi pazienti risulteranno negativi, anche se in realtà hanno il tipo di NPF che viene definito non lunghezza dipendente. 3. La biopsia è correttamente negativa, ma ha una pre-NPF. Cosa significa una pre-NPF? Si tratta di un termine sicuramente non adeguato, ma cerchiamo di spiegare meglio. La biopsia riesce a vedere la densità delle fibre della pelle ed eventuali anomalie morfologiche della fibra nervosa stessa, se è degenerata o meno. L'esame però non è in grado di vedere se le fibre nervose lavorano male. Alcuni pazienti hanno sintomi tipici dell'NPF perché le loro fibre hanno anomalie nella trasmissione o sono ipereccitabili. Non hanno però una degenerazione visibile al microscopio. Quindi la biopsia in questo caso non evidenzierà nulla. In alcuni di questi pazienti, una seconda biopsia eseguita a distanza di qualche mese o anno si trasformerà in positiva, perché le fibre malfunzionanti degenerano fino ad arrivare alla NPF vera e propria. Altri continueranno ad essere negativi. 4. La biopsia è correttamente negativa e le mie fibre nervose non sono in sofferenza. Questo è sicuramente il motivo più frequente. Semplicemente si può escludere una NPF e i sintomi sono imputabili ad altro, come ad esempio problematiche del sistema nervoso centrale o altre patologie non neurologiche. Grazie. 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 Grazie.